Allegri, buona gara, ma troppi sbagliati si può fare meglio. La Juve passa in casa con il Friburgo e guarda il ritorno in Germania con più serenità. Un gol del solito di Maria, risolutore europeo, lancia i bianconieri. Max Allegri ha parlato così nel post partita, i ragazzi hanno fatto una bella gara. Nell'unica occasione subita abbiamo rischiato di subire il pareggio, ma per fortuna l'ha toccata di mano. Abbiamo sbagliato troppi passaggi, però. I tempi diventano fondamentali perché gli altri poi ripartono subito. Su questo possiamo fare meglio. Un commento sulle condizioni di chiesa, fermatosi brevemente nel secondo tempo per un problema al ginocchio e poi rientrato in campo, ha sentito un fastidio. È da valutare ma spero non sia niente di grave. Lo speriamo tutti. Abbiamo diversi giocatori fuori o sulla via del rientro. Miretti è tornato oggi e ha fatto un tempo, idem Bonucci e Fagioli. Domenica, con la Sampdoria. Avremo una partita molto importante. Poi andiamo a Milano e negli scontri diretti può succedere di tutto. Un commento sul Friburgo e la sfida di ritorno, vediamo, non sarà semplice e lo sappiamo. Ciò che mi lascia pensare positivo è che abbiamo creato molto. Hanno concesso spazi e dovremo sfruttarli al massimo. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto, ecco. Fare partite di sacrificio. L'anno scorso. Ad esempio, abbiamo giocato con Chiesa Centravanti e Bernardeschi Seconda Punta. Continua Allegri, le regole sono alla base del gruppo, serve disciplina per poter affrontare le sfide. Per competere per la vittoria ci vogliono determinate qualità, non solo tecniche, ma anche morali. Sono contento per come è entrato Can, ma anche per gli altri. Ottima stagione per Kostik, infine. Oggi altro assist. Allegri ha commentato così l'annata del serbo, sta giocando una grande stagione. È vero. Si muove molto sull'esterno e sono felice. Però dobbiamo cercare di fare più gol. Grazie a tutti.